Sono Alessia Poulon, il direttore amministrativo della Fondazione FB di Cerca Biomedica Avanza D'Aumacus, che ha come braccio operativo l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare. Da vent'anni ci troviamo in ricerca biomedica in cinque aree tematiche, come mission principale ricerca di base delle malattie lecate di medicamento, quindi ricerca dei campi dei malattie scolari, di degenerazione di viscoli, dell'adultismo e delle leucemia. Dall'2019 noi siamo un'unità di soci e siamo molto contenti di questa opportunità, perché in un anno ufficiale, in cui da questo settore vediamo un'importante informa, per noi è un'unità di poter avere una piattaforma e un'associazione che ci supportasse in questo passaggio e ci mette l'occasione anche di ampliare il nostro working con l'opportunità di sviluppare tanto di più le nostre attenziali professionelle.